Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video per la rubrica Pippe Mentali Andiamo a vedere una carta che è stata rilasciata nel libretto, quello là di istruzioni, tra virgolette, del mazzo Quello che ti spiega le strategie, le carte da inserire, che nessuno si è mai filato fondamentalmente Anche perché le carte che ti dice da inserire sono quelle che costano mille mille milioni E le combinazioni, vabbè, se le andiamo a vedere tutti su internet e questo è palese Prima di iniziare, come sempre, ragazzi, invito a iscrivervi al nostro canale Prima di sempre, aggiornateli col mondo di Yugi, un raccomando importantissimo Grazie mille, anche se molto probabilmente avrò altri meno 10 iscritti perché stiamo riparlando di nuovo di lui Ma chi se ne frega perché dobbiamo parlarne Dato che siamo fottuti col cervello, andiamo a vedere questo qui Che io ho già ampiamente aperto Perché andiamo a vedere questo qui? Perché, allora, ovviamente è il solito librettino che ti spiega le cose, no? Però, come possiamo vedere qui Allora, ci sono qui due carte magia che sono state opportunamente tagliate E vabbè, sarà una la Power Force E l'altra, e l'altra è questa qui a destra, questa qui a destra Allora, possiamo vedere anche che ci sono delle carte che possono essere messe a due di Nexus Poi vabbè, magari andremo a vedere quando faremo gli upgrade Però c'è una carta andabile perché comunque ti, come combinazione ti fa vedere i Resonator Che possono farti andare questa carta Che secondo me potrebbe essere un regno dell'Arcinemore Drago Rosso Abbastanza interessante E' questo qui sotto allo Scarred Archive and Dragon Perché non ho visto nessuna carta Poi magari, sbaglierò io Però non ho visto nessuna carta che Dell'archetipo che assomiglia a questa qui Possiamo vederla anche qui in alto a destra Dove c'è il sincroni, lo sei, Resonator Supernova La carta trappola, Reson E la carta magia e mezzo Che fa un po' da tramite Quindi fondamentalmente Resonator potrebbero prenderti questa carta E attivare la carta magia che ti fa prendere la trappola Potrebbe essere un addino generico per ogni carta che hai in menzione All'Arcinemore Drago Rosso Nel deck che te lo fa aggiungere alla mano Oppure potrebbe essere una carta terreno Non una carta magia continua che possa fare la stessa cosa Purtroppo non vedo se ha simboliti Non ce la faccio Non credo neanche voi riusciate a farlo E poi c'è un'altra carta Questa qui in fondo a destra Che mi pare possa essere una carta divisa Starfrost in realtà Perché mi pare che fosse tipo l'universo Con la strano divisa Però in realtà non vi so dire Come possiamo vedere c'è anche l'accommodazione Per giocare la città della grossa assalto Però quello che più mi preme al momento È questa carta magia Che c'è si vede proprio il Red Supernova Dragon Che emerge da un so non so che cosa Ed è veramente molto interessante Ci facciamo un po' di ripiena Tra l'altro il mazzo uscirà fra pochi giorni Quindi o oggi o domani o dopo domani Questo scopriremo che cos'è Però è molto figo Anche perché ti fa vedere la potenza Del Red Supernova Dragon Da quanto riesco a captare Vedete fa pure riferimento qua sotto La Red Nova Bene Quindi diciamo che questo era il fulcro Di quello che abbiamo visto Molto spesso vado a cercare Appunto questi libretti qui Quando esce uno structure deck Perché può uscire roba interessante Con Crystal Beast Vediamo che c'era Contact C mi pare E con questo qui vediamo Che comunque potrebbe essere confermata Una nuova carta magia Che potrebbe essere interessante Detto questo ragazzi Ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate Mi raccomando il 24 Ci sarà l'uscita no cg Quindi sapremo tutte le carte Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti